Non è una fabbrica qualsiasi, perché quella fabbrica è la fabbrica dell'ideal standard che va in crisi mentre io ero ministro e in un mese deve chiudere. Tragedia. Salvini va in quella fabbrica e dice agli operai non vi preoccupate, vi tutelerò io, chiamerò Calenda e gli dirò di fare quello che deve fare. Salvini non fa mai quella telefonata. Noi troviamo insieme alla regione un investitore che riassume tutti quanti gli operai e io una volta ti incontro Salvini e gli dico scusami ma tu sei andato lì, hai fatto questo show con gli operai e non hai fatto neanche una telefonata come avevi promesso ed è divertente perché eravamo una trasmissione televisiva e lui mi ha detto che c'entra questo, io difendo gli italiani e si beccò un enorme applauso, era prima delle elezioni. Io dissi scusa fammi capire, questo è stato beccato a mentire agli operai di un'azienda in crisi non si è disturbato a fare una telefonata e la gente lo applaude lo stesso.